Il museo che vorrei non ha confini. Il museo che vorrei propone percorsi brevi per chi fa più fatica a camminare. Non più celebrativo e di rispetto, di reverenza, ma di empatia. Sta attento a quello che produce e a quello che spreca e si prende cura del suo ecosistema. Il museo nel quale si insegnasse anche a conservare e rispettare le opere. Si può installare rapidamente, in qualsiasi luogo, con qualsiasi opera. È un luogo comodo, confortevole. Dovrebbe accogliere la marginalità, gli oggetti delle persone e i limiti. Deve essere lo specchio del passato che ci proietta nel futuro.